Musica Dopo il successo della scorsa puntata con Piccirida sta per iniziare una nuova puntata di Thalia Cucce. L'oggetto di questa puntata? Una penna. Nella prima parte c'è chi scrive poesie, nella seconda invece c'è chi scrive gialli, c'è chi scrive thriller. Vuoi sapere cui c'è? Ci vediamo subito dopo la sigla. Musica Carissimi amici di Ega di Channel, buonasera e bentrovati per questa quinta puntata, quinto appuntamento insieme come ormai di consuetudine ogni giovedì alle ore 21. Permettetemi di ringraziare, prima di iniziare questo nuovo appuntamento, so che gli ospiti sono pronti e fremono per questa entusiasmante puntata. Un ringraziamento a tutti voi per tutti gli apprezzamenti che ci avete mandato per giovedì scorso per la puntata Piccirida. Grazie ancora a Marta Castiglia e a Ivan che mi hanno fatto compagnia appunto lo scorso giovedì, la puntata ha riscosso un bellissimo successo, mai lo avete visto. Il giovedì siamo in onda su Ega di Channel, poi la domenica alle ore 15.30, sempre la stessa puntata, viene ripetuta sulla pagina Facebook appunto Ega di Channel. Che anche lì i mi piace crescono, i follower aumentano di giorno in giorno, questo significa solo una cosa, che Ega di Channel sta entrando in tutte le case tramite questa piattaforma e fa compagnia sempre a più persone. Bene, ma iniziamo questo nuovo appuntamento, questa puntata, oggi ve l'ho detto nell'anteprima, parliamo di arte con due figlie della nostra terra. La prima, in questa prima parte, è appunto, la conosciamo tutti perché ha organizzato eventi sull'isola, rassegne poetiche e culturali fino alla scorsa estate, ed è Paola Gusino che noi dovremmo averla in collegamento direttamente da Trapani. Paola, ci sei? Ciao! Ciao Paola! Come stai? Grazie! Grazie per questo collegamento, ti ringrazio. Grazie a te Paola, io ho visto in questi giorni i tuoi post pubblicati, seguo le tue pagine, poi ho visto anche i post condivisi sui vari gruppi social, e allora ho deciso di chiamarti perché ci tenevamo proprio ad averti come nostra ospite, in quanto anche tu è Gadina. Certo, poi ho accettato con grande piacere il tuo invito a partecipare a questa iniziativa che porta davanti, siete meravigliosi ragazzi, davvero. Grazie Paola, come stai intanto? Come va? Tutto bene? È da un po' adesso che non ci vediamo a Favignano, va bene, la pandemia purtroppo ci limita negli spostamenti. Bene, bene, grazie. Bene, allora iniziamo questa chiacchierata insieme, l'ho detto nell'introduzione, no? Hai organizzato varie rassegne sull'isola, poetiche che hanno riscosso molto successo, ma prima di entrare nelle rassegne, Paola, parlaci un po' di te, della tua vita, di come è venuta fuori questa arte, questa passione per la poesia. Beh, innanzitutto, devo dire che non è che sono stata io a cercare la poesia, è stata la poesia a cercare me. Bene, e com'è che ti sei resa conto che c'era questo contatto con la poesia? Da dove te ne sei accorta? Non lo so, forse perché c'è il desiderio, c'è questo dialogo interiore, questo continuo dialogo interiore con la nostra anima, sin da piccola, diciamo, ho avuto sempre questo desiderio di mettere per iscritto le mie sensazioni, non è stata una cosa cercata, voluta. E' una cosa, un istinto, un incontro, come quando si incontra una persona, tu l'hai avuto con l'arte e con la poesia, bello, bello, grazie per questa condivisione. Ascolta, Paola, ti faccio una domanda, ma per te, chi è un poeta? Beh, qualcosa di... l'anima del poeta è indescrivibile, innanzitutto è un'anima empatica, molto sensibile. Il poeta vede oltre, oltre l'orizzonte, vede cose che altri magari non riescono a vedere, riesce a sentire cose che altri non riescono a sentire. Per esempio, posso dirti tante cose, la voce del vento, la voce del mare, l'espressione di un tramonto, la natura. Qui io sono molto legata, soprattutto all'isola di Favigliana. Soprattutto all'isola di Favigliana, e di questo ne parliamo dopo, perché mi sono preparato sull'argomento. Ma di poeti a Favigliana, grazie a te, ne sono arrivati parecchi, grazie alle tue rassegne. Tu hai partecipato anche in altre rassegne in provincia e non, ma sei stata, dicevo, organizzatrice di rassegne proprio sull'isola. Quando ci sentivamo l'altra volta al telefono, mi dicevi quanto sacrificio e quanto impegno nel preparare tutto ciò. Mi vuoi raccontare, mi vuoi fare un escurso, se mi vuoi raccontare queste rassegne avvenute in più anni qui a Favigliana? Quanto impegno e quanta dedizione, portiamo questi eventi, queste manifestazioni, che hanno l'unico scopo quello di valorizzare il nostro patrimonio artistico e territoriale, il nostro territorio, la nostra isola. C'è in me, diciamo, questo desiderio. La manifestazione intanto è nata con lo scopo di valorizzare la poesia e l'arte in genere. È aperta a tutti gli artisti, è un'opportunità per dare voce al proprio talento. E quindi diventa qualcosa di concreto. Io, diciamo, ho iniziato dal 2013, partecipo a questi recital di poesia che mi hanno arricchito, innanzitutto hanno arricchito il mio bagaglio di esperienza. È stato poi un modo di crescita. Ho partecipato a vari concorsi, ricevendo dei riconoscimenti. Questa, diciamo, è stata più che altro una mia ricerca di avere conferme su quello che io porto avanti. Bene. Ascolta, Paola, all'interno sono tante le rassegne. Quante edizioni ci sono su quella di Favigliana? Quante ne hai fatte? Siamo giunti già alla terza edizione. Alla terza? Sì, adesso abbiamo in programma la quarta edizione, per l'estate 2021. Ce n'era una in programma anche quest'anno, ma la pandemia, purtroppo, sta pandemia non ci ha fatto. Non siamo riusciti. Causa pandemia non l'abbiamo potuta realizzare a Favigliana, l'abbiamo realizzata a Travani. Esatto. Nella location dei Roccaedraele. Esatto. Io non so se l'hai vista, ma la regia mi dice di sì. Noi, mentre tu stai raccontando tutto, vediamo le foto di quello che è successo per far capire meglio a chi ci sta ascoltando in questo mondo e far vedere soprattutto parte delle tue rassegne. Ecco, qui stiamo vedendo quella appunto dell'ultima edizione di Roccaedraele, ma c'era anche una bella foto di gruppo all'esterno di Palazzo Florio. Eccola qui, perché le tue rassegne godono di tantissime partecipazioni, è così? Eh, pensa che la seconda edizione ha visto la presenza e la partecipazione di 40 poeti provenienti da tutta la provincia di Trapani e anche oltre, perché abbiamo anche poeti che provengono da Palermo, da Messina, penso un po'. Vengono proprio apposta a Favignana per l'occasione del raduno, quindi l'evento diventa anche qualcosa di importanza a livello turistico. Abbiamo avuto infatti, a livello diciamo di riconoscimenti, l'evento quest'anno viene riconosciuto come evento di importanza culturale. Certo, per lo spessore. E, permettimi, poeti i cui Favignana ispira in un certo modo, c'è anche all'interno della rassegna, abbiamo una fotografia, regia, e nasce proprio una vera e propria antologia di tutte queste poesie. Un'antologia. Dovremmo avere l'immagine che ci hai mandato. Eccola qui, la stiamo vedendo. Sì, abbiamo fatto, queste sono la prima e la seconda edizione. Abbiamo il primo raduno e il secondo raduno. Queste due antologie le potete trovare presso la Biblioteca Favignana e presso la Biblioteca Fardelliana a Trapani. Esatto, che poi ci ritorniamo dopo, nella Biblioteca Fardelliana a Trapani tu hai fatto anche la presentazione ufficiale della tua opera, ma di questo ne parliamo dopo. All'interno di questa antologia so che c'è una poesia che tu questa sera ci vuoi dedicare. È così? Sì, sì. Allora, qual è il titolo? Dici, dici. Questa è la seconda edizione, secondo raduno. Ok. La poesia in siciliano si intitola Nostargica. Nostargica. Allora mettiamo regia Paola a pieno schermo, eccola qui, lo schermo è tutto tuo, perché abbiamo voglia proprio di ascoltare questa poesia. Vai Paola. Nostargica. Rosa Marina, Nostargica torni. Da Luca Niscio, sciuri di campo. Gira e ferria, un giro di waltzer. Sciuti le capigli, accomincia lo suo canto. Fogna niseggia, anima beggia. Angelo, un tastaterra scennuto pa mare. I tobigizzi, un cicaliare di palori. Dallo silenzio di notte d'ottobre. Pigliano forza e verso, come d'umare l'unna. Canto d'amore, sonno e tormento. Gioia di la vita mia, ogni vaso negro. Vucini dall'arma, dall'opetto. Amara sorte, destino infame. E sempre forte, una preghiera in cielo. Tu passi pace e grazia. Pi sta afflitta arma. Pi sta imprestritta dalle tue brazze. Brava Paola, grazie per questa poesia che ci hai dedicato. E io voglio andare avanti, voglio farti subito un'altra domanda, perché mi sono incuriosito sempre di più. Che mi dici di Ofea? Che cos'è questo tuo capolavoro? Beh, Ofea è qualcosa di straordinario. Innanzitutto il nome Ofea è il nome della mia musa, ispiratrice dei miei versi. È una ninfa del mare appartenente alla Lene Reidi. È una creatura benevola, protettrice dei naviganti e dei viaggiatori. Vive nelle profondità marine delle isole Egadi. Diciamo che i luoghi di Favignana sono la cornice di questa storia d'amore tra la ninfa Ofea e un essere umano. Come tutti ben sappiamo, la razionale diversità tra due mondi divina e umana li divide, però eternamente il loro amore li ricongiunge. Ofea, voglio parlarti ancora di Ofea, perché reincarna la leggenda mitologica di Orfeo di Oridice. Sappiamo che legati da quell'amore infinito tra due anime destinate ad amarsi. Posso proprio affermare che siccome tutte le emozioni sono energia viva, rigenerante, trasformatrice, e poiché la vita sempre ci offre opportunità per perdonarci, per perdonare, per diventare migliori. E ho dedicato questa raccolta di poesia e l'amore. Bene, io ho visto anche, ecco la stiamo guardando insieme, anche l'immagine di copertina del tuo, questo tuo libro, questo tuo capolavoro, lo dicevamo poco fa, presentata anche a Trapani nella importantissima biblioteca fardelliana, è così? Sì, sì. Bene, dove lo possiamo trovare? Dove lo possiamo trovare? Io ho la pagina Facebook, Ofea Paola Busino, possono contattarmi via email, comunque se fosse interessato all'acquisto del libro, può andare sulla pagina. Esatto, e allora regia, mettici a doppio schermo perché Paola si merita sicuramente, appartiene a noi quindi si merita questo momento di promozione, quindi amici e amiche, mi raccomando, su Facebook voi trovate Paola Busino, c'è anche una pagina dedicata che è Ofea, dove potete trovare alcune delle sue poesie che sono all'interno di questa raccolta, mi raccomando perché ne vale la pena. Io ne ho vista qualcuna, e vediamo se adesso Paola me la sa dire, Turretta, Paola, Turretta. La Torretta, sì. La Torretta, è all'interno di Ofea se non sbaglio, correggimi se sbaglio. È una poesia inedita la Torretta. È una poesia inedita. Però fa parte, diciamo, non è pubblicata nella raccolta di Ofea, però diciamo una continuazione. Esatto, che tu mi hai inviato, mi hai dato questo privilegio di averla come inedita, quando me l'hai passata, me l'hai fatta vedere oggi, questa mattina, mentre ci preparavamo. Ascolta, Paola, ci sono tantissime recensioni che parlano già di te, anche sui social. Io ne ho trovata una, guarda, ho fatto lo screenshot per condividerla anche con di Jose Burrussotti, perdonami. La sua, sicuramente, dice Jose, è una poesia ricca di accadimenti e di cose, ma soprattutto di tracce, di orme lasciate dai ricordi. Ed è proprio in questo percorso emozionale, compiuta alla ricerca di un qualcosa di supremo, che gli consente di valicare le faccende della vita con serena pacatezza. Anzi, diventa la maniera più consola per superare le sterili consuetudini contrapposte che inevitabilmente depositano chi come lei, invece, vuole ardentemente scoprire cosa si cela oltre il fare quotidiano. Tuttavia, i versi di Paola Gusino penetrano dentro il cosmo dello spirito, sospinti dalla curiosità quasi infandile di indagare nuovi mondi sconosciuti e tutto ciò che lei in esse riesce a riscoprire, diventando appunti di viaggio zeppe di note e di descrizioni sensoriali da tracciare immediatamente sul foglio di carta. Paola, che emozioni provi quando tu ricevi questi bei complimenti? Eh beh, è stata una bella sorpresa, soprattutto perché non è stata cercata, diciamo. Esatto. Una bella novità. Ascolta Paola, sì, un'opportunità, ecco, io, ritornando alla turretta, siccome siamo in chiusura di questa prima parte, io volevo chiuderla con te, se per te va bene, se tu potevi leggerci i versi, appunto, di questa poesia che dicevamo poco fa. Certo. Sei pronta? Sì, sì, ce l'ho qua davanti. Noi abbiamo mandato, manderemo, mentre tu leggi, anche delle foto che tu ci hai inviato a contorno di questo, di questa poesia, appunto. Quando vuoi, Paola. Sì, sì, la torretta, un passo verso il cielo, le tasche, piene di ricordi, oltre il buio la luce, oltre l'odio l'amore, libera dalle mie piume di pietra, libera a volo, con piccoli batti di dali, scivolo tra spazi immensi, tra note malinconiche, il canto e il volo dei gabbiani, gli occhi cristallizzati nell'eternità, dove il velo tra questo mondo e l'altro si assottiglia, dove i sogni non hanno fine, nel limite estremo, libera a volo, attraverso la trama dell'illusione, come dentro uno specchio, una perfetta armonia di immagini, le sfumature, nel riflesso di una gioia con le lacrime agli occhi tutti gli elementi del sublime, lo spettacolo da qui è meraviglioso, non un luogo estraneo, e sento di appartenervi, un idilliaco sogno, tutto qui ha un senso, e quando tutto sembra finire, non dimentico, una sinfonia emotiva, i miei giorni, il mio tempo, la voce, il delirio di tutta la mia giovinezza, e trovo, trovo sollievo, nelle parole, nella semplicità, la poesia. Brava, grazie Paola. Innanzitutto io volevo ringraziarti per questa disponibilità che ci hai dato nel condividere queste tue poesie, questa tua esperienza di vita con noi questa sera. Veramente grazie, grazie da parte di tutti noi. Volevo aggiungere un'altra cosa. Dimmi, dimmi, dimmi. Io dalla terza edizione, diciamo, ho la collaborazione di Giuseppe Voltaggio, che voi tutti ben conoscete, grande poeta, attore, cantautore, lui ha realizzato un videoclip intitolato Non è tempo di mattanza, quindi Giuseppe Voltaggio è qualcosa veramente di straordinario, innanzitutto. È un poeta dall'animo gentile, cordiale, è nata questa stima reciproca e abbiamo deciso insieme di portare avanti questo progetto, un arduo progetto, abbiamo visto. Però, diciamo, la scopa è questo, abbiamo questo scopo insieme di portare avanti questa manifestazione con semplicità, con gioia, senza pretese e io poi credo molto nell'universo. Se gli obiettivi sono buoni, se l'idea è positiva, le idee convolgono e poi i risultati arrivano da soli. Sono assolutamente convinto di ciò che hai detto. Io ti faccio intanto un in bocca al lupo per tutta la preparazione della rassegna, ovviamente, che sicuramente terrai quest'estate. Dai, auguriamoci che veramente questa pandemia ci liberi e ci possa far tornare nel più breve tempo possibile alla normalità. Per riprendere, diciamo, tutte le manifestazioni, sì. Tutte le manifestazioni che c'erano, esatto. Ascolta, tu parlavi poco fa di videoclip, io ne ho trovato uno in giro nella rete che è una bellissima poesia scritta da te, è vero? Sai a cosa mi riferisco? Le vuoi accennare? Vuoi fare tu l'intro? È una videopoesia dal titolo Meditazione dove Giuseppe Voltaggio poi ha realizzato il montaggio, il video, la voce sono di Giuseppe Voltaggio. Bene, allora cara Paola se per te va bene io chiuderei questa prima parte di questa nostra trasmissione ringraziandoti ancora una volta e salutando e salutandoti a nome mio e di tutti i ragazzi. Io e gli amici a casa ricordo che a breve avremo il nostro ospite direttamente in collegamento sempre da Trapani quindi non staccate, non andate via perché la puntata continua. Intanto ci godiamo Meditazione di Paola Gusino. Grazie Paola una buona serata ciao un bacio ciao a presto ciao 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 Somehow ciao ciao all'incirca di una vita semplice insimbiosi con la natura inseguo con un pizzico di incoscienza l'intesa perfetta che si insinua tra deliziose fragranze di alghe salate dalla terra e di fiori dai mille colori Attingo dal succo dolce della vita vera Ambrosia Un sapere antico, tra leggenda e poesia, sembra materializzarsi Uno scorcio sul passato, un campo etereo Un luogo perfetto, autentico tesoro, oggi come ieri, alba di un nuovo giorno E sogno, sogno la danza selvaggia della primavera Il religioso silenzio della natura mi conduce complice verso terre lontane Mai viste, mai vissute Una nota di freschezza, la luce e la bellezza Atmosfera vitale che la natura dona A cui non riesco a rinunciare Un rispettoso scambio senza perdere Il senso di onestà tra l'essenza degli elementi in ogni sua forma Una ricchezza sorprendente traspare Poco distante dal cielo Pura poesia si estende dal mare fino alla campagna Non un sogno, il luogo esiste Un forte legame la attraversa Un alito, ricco di emozioni Con voglia le idee, i pensieri E sorrido, sorrido di me stessa Un senso di gioia mi assale, mi sorprende E nel profondo del cuore Ritrogo il filo invisibile della poesia Rieccoci tornati in studio Dopo questa bellissima prima parte Che abbiamo assistito insieme alla prima ospite di questa serata Che è stata Paola Gusino Che ancora ringrazio per il suo intervento E per averci dedicato questo tempo a disposizione Questo tempo di condivisione Come dicevamo poco fa Quando abbiamo fatto la prima puntata di Dialia Cuccea Ancora mi ricordo Avevo come ospite Dario Di Vita, Diamante Ed allora abbiamo lanciato lì Bene, chi vuole venire in questo salotto Per farsi intervistare Per far conoscere la propria arte Può farlo tranquillamente E credetemi carissimi amici che in questo momento ci state guardando Sono tante le richieste che ci sono arrivate Una di queste ce l'abbiamo proprio in collegamento A breve si collegherà con noi E Alessia Piemonte È una ragazza che già sta esordendo In una buona maniera Buonissima maniera A breve ne parleremo con lei Con i suoi iscritti Ma sono tante anche le richieste Dicevo poco fa Che stanno arrivando Quindi io ne approfitto in questo momento per dire Se ancora magari c'è qualcuno che aspetta la chiamata Che lo devo chiamare o che non ha risposto Vi chiameremo sicuramente Perché a tutti Dedicheremo parte di questa nostra rubrica Che come o mai avete capito Va in onda ogni giovedì alle ore 21 E poi la domenica alle 15.30 Sulla nostra pagina Facebook Bene, ma ritorniamo A parlare di questa puntata Lo dicevo nell'introduzione Una puntata tutto al femminile Prima Paola Gusino E adesso dovremmo avere In collegamento Da Trapani se non sbaglio Alessia Piemonte Regia ce l'abbiamo? Eccoti qua Ciao Alessia Come stai? Ciao a tutti Com'è? Tutto bene? Sì sì tutto bene Grazie Ok ti ho chiesto come stai Purtroppo sta pandemia Ci sta bloccando Non ci fa fare grandi presentazioni Di libri nel tuo caso I vecchi eventi sono tutti fermi Speriamo che va via più presto E così Riusciamo di nuovo A riprendere man mano La vita quotidiana La quotidiana in età Senti Tu sei di origine favignanesi Se non sbaglio Tua mamma è di favignana Mentre il papà è napoletano Ho detto bene? Hai tanti parenti a favignana No? Ti faccio subito la prima domanda Così a bruciapelo Di presentazione Così per capire Chi è Alessia Piemonte? Beh Alessia Piemonte È un'emergente scrittrice Di gialli, thriller, horror e poesie Sono una fotografa Sono stata una ballerina di pop Sono amante dell'arte In tutte le sue sfaccettature Sono made in sud Quindi puramente meridionale Metà siciliana da parte di madre E metà napoletana da parte di padre Nel 2020 sono state pubblicate Due mie fatiche letterarie Una è Perle di thriller L'altra è Le favole della buonanotte Sono entrambe delle raccolte di racconti A tema horror thriller Ok, perfetto Alessia Non c'era modo migliore Per fare una presentazione all'inizio E io direi subito di parlare Di Perle di thriller Di cosa parla? Come accennato è una raccolta di racconti In totale sono sei Che si muovono indipendenti Seguendo la scia del sangue È un viaggio all'insegna del noir Dove il lettore vuole esplorare Quella realtà nelle sue fragilità Critiche, tematiche e sociali Divisa in tante fotografie Ovvero Perle Io ho voluto evidenziare I miei orrori Quei germe della follia Che scorrono come i fiumi sotterranei Nel quotidiano Non risfagnando scenari magabri Perché a me piace Così scrivere senza censure Perché mi sono buttata a capofitto Sul sangue e sulla violenza Che si impossessa dell'animo dell'uomo Poi i personaggi sono anche molto realistici Nelle loro contaminazioni dialettali Nelle personalità Stati d'animo Perfino anche nelle loro deviazioni mentali Alessia ascoltami Perdoni Possiamo rientrare in regge studio Eccomi qua Ma come hai scoperto Di avere questa passione Questa vena artistica E soprattutto Per scrivere romanzi del genere Thriller, gialli Cioè il giallo Scrivere un giallo Non è per tutti Eppure tu hai capito Che avevi questa passione Cioè come hai fatto Dove te ne sei accorta Che potevi realizzare Tutto questo bel materiale Che hai prodotto? Ebbè è una passione Nata sin da piccola Perché io Distinto Preferivo comunicare Attraverso la carta E la penna E non oralmente Poi sono entrata In questo circolo vizioso Del mondo thriller Horror e giallo Perché io sono Cresciuta Facendo anche Una indigestione Con le serie tv Di Colombo Jessica Fletcher Poi Il commissario Montalbano E anche le serie tv Americane Poi come Ad esempio Nevency A Yes Poi CSI New York E Miami Poi mi sono fiondata Sulle letture Dei grandi maestri del giallo Come Andrea Camilleri Donato Carrisi Antonio Manzini E così via Perfetto Alessia Grazie E ritorniamo su Perle di thriller Perle di thriller Sì dico bene Sono sei racconti Ecco Ti chiedo così Ti va di prenderne uno E raccontarcelo Senza il finale Ovviamente Non spoileriamo nulla Vai 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 Beh il mio racconto Preferito di questa raccolta È Amore sbagliato Non solo perché L'ho ambientato In un'epoca passata Perché io sono attratta Da ciò che è vintage E poi La location È Agrigento Io L'ho visitata Tanto tempo fa Questa Città E mi è rimasta impressa Ma Sono particolarmente legata Perché ha dato I Natali Ad Andrea Camilleri Che è stato Ed è ancora tuttora Uno dei miei mentori È più che altro Quello che mi ha dato La spinta Per avviarmi Sulla strada della scrittura Ascolta Tu all'inizio Alessia Ti sei Descritta Come un artista Emergente Ma Per essere emergente Ci sono Già Dei risultati Ci sono Delle ottime Recensioni Che hai ricevuto Ma anche Degli ottimi apprezzamenti E degli ottimi I riconoscimenti Io Ho sbirciato Nel tuo profilo Facebook Faremo vedere anche Lo screenshot Ne vuoi ricordare qualcuno? Sì Proprio L'ultimo Che Che ho conseguito L'altro ieri Ovvero Sono stata Classificata Per Per una mia Opera Genere Thriller Fantasy Abbientata Nel quartiere Degradato Difficile Di Scampia Ho vinto Quindi Il primo post Sono stata Scelta Fra 350 Partecipanti E passa Bene Ma so che anche Un tuo racconto E correggimi se sbaglio Dal titolo Racconto Odio il Natale È stato Inserito All'interno Di un'antologia Che in 24 ore È schizzata Dal primo posto Su Amazon Dico bene? Come best Sì Perché è un racconto Che ho presentato Partecipando A un concorso E poi è stato scelto Per essere inserito In un'antologia Che nemmeno di 24 ore Ha addirittura Scalzato Stephen King Bene Se ti dico Favignana Cosa ti viene in mente? È la tua isola So che ci passi anche del tempo E fai delle bellissime foto Che mi hai inviato E io le voglio condividere Magari mentre tu mi dici Due parole su Favignana Ecco Cosa ti viene in mente Quando pensi Favignana? Vediamo delle foto Ebbè Ebbè Essendo Metà Favignanese Non potevo non amare Favignana Anche perché È un amore Che è stato trasmesso Da mia madre Favignanese Doc Beh Sin da piccola Io trascorrevo L'estate Favignana Anzi Era Categorico Già da quando abitavo a nord E poi Quando mi sono trasferita Da più di vent'anni A Trapani Ovviamente ci vado spesso Però secondo Il mio Modesto parere Favignana Per me È più bella Nel periodo Primaverile Invernale Perché esalta La sua naturale Bellezza Incontaminata Poi Per me È una ricchissima Fonte di ispirazioni Per racconti Poesie E anche sette Fotografici Bene Perché lo ricordiamo Tu hai anche la passione Per le foto Per il teatro Lo dicevi all'inizio Per il mondo dell'hip hop Perle di thriller E le favole Della buonanotte Vogliamo dire Qualcosina Sulle favole Sulle favole della buonanotte Ovviamente Non sono Delle favole Che consiglio Ai bambini Perché Perché potrebbero Rimanere traumatizzati Beh La favola della buonanotte È una raccolta Di cinque favole Dove Si sfiora Il paranormale Che poi Tra l'altro Per uno di questi racconti Mi sono ispirata Un'esperienza paranormale Vissuta Da mio padre Quando era piccolo E quindi Insomma Sono Appunto Quelle favole Che potrebbero Tormentare le notti Ma anche perché Ci sono molti Riferimenti A quei Mostri A quei miti A quelle leggende Che Hanno accompagnato Un po' tutti Nell'infanzia Dell'adolescenza Quindi insomma Bene Rientriamo in studio Regia Carissimi Egatini E amici Che ci state guardando In questo momento Se non lo sapevate Adesso lo sapete Qui su Ega di Channel Abbiamo scoperto Una nostra conterranea Una nostra amica Una giovane Favignanese Lo abbiamo detto La mamma è favignanese Di origine Lei la ama Che è scrittrice E che si sta Avventurando In maniera Molto bella Nel mondo Appunto Della scrittura Del giallo Del thriller Perle di thriller Dove lo possiamo trovare? C'è su Amazon Vero? Sì 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 Potete trovare su Amazon In formato ebook E cartaceo Mentre invece Le faure della buonanotte Solo in formato ebook E audiolibro Bene Allora Grazie Alessi Intanto che Hai voluto partecipare Su Ega di Channel Per far conoscere Ovviamente Meglio Le tue qualità Le tue doti Ma soprattutto Quello che stai Realizzando Grazie veramente In chiusura Ho un'altra domanda Da farti Vediamo se mi puoi Spoilerare qualcosina C'è qualcos'altro Che stai scrivendo? Sì 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 Attualmente Sto lavorando Un progetto Romanzo noir Che il protagonista È un transessuale Quindi sarà anche un po' psicologico Perché ovviamente è un viaggio Perché appunto questo transessuale Ha deciso di intraprendere questo percorso Come ha scoperto di essere in realtà una donna E quindi purtroppo è vittima di tante servizi e violenza E soprattutto cerca in qualche modo di integrarsi nella società Bene Allora Alessia Io ti ringrazio per questo tempo che ci hai dedicato all'interno di questa rubrica Io spero di averti nuovamente ospite per presentare degli altri tuoi capolavori Speriamo bene dai Io ti auguro il meglio per tutto Spero che Perle di Thriller Ma so che già sta andando bene Perché ho visto anche qualche recensione Qualcosina Che molti lo stanno vedendo Quindi io ti saluto E ti ringrazio ancora di essere stata con noi Come nostra ospite in questa trasmissione Grazie a te Grazie Alessia Grazie 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 Ciao Un bacio Ciao Una puntata tutta al femminile Prima Paola Gusino Paola Gusino Adesso Alessia Piemonte Che ci hanno raccontato la loro arte Chi con la poesia Chi con il mondo dei gialli e dei thriller come Alessia Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi Ve lo ricordo Egadi Channel è un canale YouTube Ed è il canale YouTube delle Isole Egadi Le pagine lo sapete C'è quella su Facebook Ma c'è anche quella su Instagram Ma da questa settimana Egadi Channel è arrivato su Whatsapp Potete mandare un messaggio Scusate al numero che vedete in sovraimpressione In questo momento Col vostro nome e cognome Così voi riceverete tutte le novità Tutte le notizie Tutti i contest I link delle dirette Direttamente sul vostro smartphone Quindi mi raccomando Aspettiamo tutti i vostri numeri di telefono In modo da inviarvi tutte le notizie giornaliere Un grazie di essere stati con noi Anche questa sera L'appuntamento è come sempre Per giovedì prossimo alle ore 21 Con Talia Cucce Sigla Ciao Buonanotte 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.